Oh! Ci staranno aspettando! Che razza di Shestashire posto è questo? Beh, ho i crampi allo stomaco e mi tremano tutte le mani. Deve essere un liceo. Un liceo? Pronte? Ok! Dove dire che a te sulla verità Si lo pensiamo, lo pensiamo Pensate di non fare tanto in fretta Non lo pensiamo, non lo pensiamo Bene, signor Parsifal, ho letto in erediti? Oh via, fratello, non fumarti tutto il mio incenso e la mia mirra Mi viene la nausea, ho solo ricordo di nocchini e smutandate Ma come facevano a smutandarti? Quando è evidente che tu non porti le mutande Diciamo che è meglio non toccare certi tasti e chiudiamola qui Io ero tutta tipo, preferirei beccarmi la peste e farmi squartare che uscire con te Ah, regolare Chiedo scusa Che schifiltà Sì, una cifra Sì, ho forzato il livello del mio personaggio a superabilità più tre Salve, cerchiamo uno che si chiama... Però, chi ha lanciato l'incantesimo fesso più nove con una bestia e il suo quadrupede? So che siete occupati a non ingranare con gli altri, ma uno di voi sa dirmi dove trovare Arthur? Alla giù Alla giù Affascinante, viso di un capo Arthur ha l'aspetto di un re o no? Oh, scusa Sbaglio, ho detto che sei in cerca di Arthur E un'informazione riservata agli retti ai lavori E top secret, citto cittino Ora, signori, in marcia Alle docce Sì, giusto Cos'è qui, vostra maestà? È il tuo giorno fortunato E tu cosa tipo dovresti essere? Sentiamo, una specie di gigantesco gnomo mutante o che altro? Gigantesco gnomo mu... che battuta Rilasciami, mostro! Smettila di contorcerti, Arthur Io non sono Arthur Io... sono l'ancillotto Quel fisso laggiù è Arthur Ehi! La cosa mi imbarazza una cifra Ma la mia amica Tiffany vi ritiene ributtevole tanto suavemente E ha pensato che per avventura la invitereste al saltarello degli studenti o che so io Come, prego? Insomma, cioè alla fissa per gli universitari, le creature mitologiche, eccetera LeH Grazie a tutti! Grazie a tutti.